Questa gente che fa tre tiri, poi ritorna con tre tapiri Sto facendo il video deficiente, non è una pauta No, non è che non vuol dire No, non si dice Vediamo dov'è Dove lo sfuta Oh che bello che è Aspettami, non sa che non vieno se lo faccio questo Se lo faccio di tre verso Umola Tieni tu, fai il video Cos'è che devi fare? Oi, oi Si deve sentire, no? Ma si che diventa Senta, senta, senta Sono Tantara Dimmi tutto Bene Aspetta Di poverizzare contro i tapiri